le menti dietro la drammatica trasformazione delle principesse beatrice ed eugenie da sciattate a regine dello stile le principesse beatrice ed eugenie sono state crudelmente derise per la loro corporatura robusta e la loro moda non corrispondente ma le sorelle hanno avuto una sorta di rinascita dello stile e del corpo negli ultimi tempi le sorelle york hanno subito un restyling completo che le ha viste scambiare abiti brutti con bellissimi modelli e perdere peso in un lasso di tempo relativamente breve ora possiamo rivelare che questa straordinaria trasformazione è dovuta a una sola donna l'assistente segretaria privata della sorella libby orsley miss orsi come affettuosamente conosciuta dallo staff del palace ha lavorato instancabilmente dietro le quinte negli ultimi tre anni per trasformare le sorelle in ciò che il pubblico vede oggi libby è una personal trainer qualificata oltre ad essere un po un esperta ha detto la fonte ha sottoposto le sorelle ad un regime di allenamento piuttosto intenso e si è assicurata che il loro guardaroba fosse all'altezza la stilista dell'alta società olivia buckingham è stata subito chiamata ad aiutare le sorelle a mettere insieme le ultime mode di artisti del calibro di self portrait monique louis e vampire's wife ed emilia wixton ma dicono le fonti libby era la mente dietro il piano libby lavorava per andrew a peach palace ha detto la fonte ma le sue capacità organizzative non erano seconde a nessuno e va meravigliosamente d'accordo sia con eugenie che con beatrice quindi ha deciso di iniziare a lavorare con loro le fonti aggiungono che libby che ha una laurea in contabilità presso l'università di exeter e il cui ruolo principale è tenere sotto controllo le finanze delle principesse si è rivelata una sorta di wonder woman per le sorelle libby ha un passato nell'esercito e una laurea in contabilità ha detto la fonte quindi non solo sarà in grado di metterti a terra con un rollio se ti avvicini troppo a una delle sorelle ma si assicura che abbiano un budget e spendano i loro soldi saggiamente